Ben trovati a tutti, per l'angolo del libro di Valsugana Web TV oggi vorrei presentarvi La sera cala senza rumore di Marco Pisoni con la prefazione di Sergio Martini edito da Curco e Genovese. Il libro raccoglie una serie di itinerari insoliti tra Lagorai e Adamello Brenta. Le cartine sono degli schizzi poco dettagliati che l'autore ha volutamente proposto in questo modo, mentre i racconti sono racconti sinceri, fatti senza dar spazio alla fantasia senza dar spazio all'invenzione, ma parlano piuttosto di flora, di fauna, dei rifugi che l'autore ha trovato lungo i suoi percorsi, delle amicizie che ha stretto. Il libro mi piace molto perché racconta in maniera molto gradevole e molto sincera degli itinerari insoliti del nostro bellissimo e selvaggio Lagorai. Lo potete trovare presso la libreria Il Ponte di Borgova e Sugana.